prova prova ragazzi allora tento una diretta non so se ce la farò perché mi sto annoiando come una bestia devo aspettare una mezz'oretta sono messo un po a riguardare tutte le cose di periodo post vicchio quindi si parla si parte direttamente del primo agosto e ci sono un po di notizie conosciute ma interessanti quindi me le sono messe tutte in ordine per vedere un po di fare un recap della della situazione che si è presentata dopo l'omicidio dell'84 e c'era mentre si parte al primo agosto prima agosto i titoli giudici fiorentini indagano sull'uccisione dei fidanzati una traccia del maniaco la traccia sarebbe quella degli pneumatici della di un'auto a 10 metri di distanza ma quella con tutta probabilità era degli avventori di quelli che hanno scoperto degli amici di di claudio infatti poi non se ne parlerà più scusate ma sto scomodissimo praticamente già il primo agosto cioè i giornali titolano che già il primo agosto partono i primi interrogati interrogatori e le perquisizioni del mucello perché perché sicuramente si vede anche da dalle date dei verbali erano già uscite tutte le storie di cui sta parlando paolo ormai da diverso tempo ciao filippo e quindi tutte bardazzi quindi era già uscito e che succede succede che loro iniziano a fare perquisizioni di mucello quindi a canessa interessa quest'uomo quest'uomo visto nei due bar e a quanto pare gli interessa ancora perché dopo averci piazzato vanni sopra sopra l'identi hit poi adesso sembra con la storia dell'anello che ci voglia piazzare il legionario non si sa se vedrà comunque quello è certo il primo agosto ci dicono che sono già partite le perquisizioni nel mucello quindi ci si trasferisce esattamente nella zona in cui è successo l'omicidio più recente mentre in galera ci sono mele e mucciarini e che succede si creano già delle delle fazioni delle delle divisioni interne perché appunto ci abbiamo la concentrazione di canessa nel mucello e contemporaneamente però i carabinieri sono sempre sui sardi giorno dopo 2 agosto un tè inglese no è montenegro quindi no 2 agosto ne fanno parte magistrati poliziotti carabinieri psichiatri e criminologi un team mobilitato 24 ore su 24 darà la caccia al folle di firenze quindi un po gli albori della squadra antimostro gli inizi no 2 agosto ed interessante qui mi ero segnato che iniziano a ragionare su appunto un team deve mettere insieme un po fare il punto sui personaggi ci si avvicina un po gli studi dell'fbi in pratica no si cerca di scimmiottare un po quello che stanno già facendo oltreoceano e si cerca il maniaco nella zona del mucello ma non è escluso che abiti a firenze per ora dicono così follia lucida e tutto il resto contemporaneamente vanno a sentire che succede in carcere e continuano a essere convinti quella fazione lì degli inquirenti che stefano mele anche se non ha sparato ha visto l'assassino poi si intervistano i solici i soliti preti e dicono confessati davanti a dio e tutto il resto chiede la soluzione magari l'ha fatto non si saprà mai 3 agosto vertice di giudici sindaci e poliziotti in toscana scusate il suo svegliatore il maniaco conosceva le ultime due vittime perché perché appunto inizia si inizia a fantasticare sul sul portafoglio il portafoglio e lo stefanacci dicono è stato è stata controllata la patente forse voleva riprendere nel portafoglio qualcosa che lo poteva far risalire a lui eccetera comunque si continua a concentrarci sull'ambiente quindi intorno a vicchio e tra l'altro i vertici della zona sono quelli di vicchio borgo montespertoli scandicci calenzano e signo cioè praticamente i luoghi dove sono avvenuti gli omicidi fino a quel momento poi si passa al 4 agosto segnalata la presenza di un'auto si comincia qui c'è che se carina per il finale più che altra segnalata la presenza di un'auto firenze indizi sul maniaco una macchina è stata la protagonista della quinta giornata di indagini dopo l'ultimo omicidio l'auto sarebbe stata notata la sera di domenica scorsa nella zona di vicchio non lontano luogo in cui sono stati brutalmente uccise eccetera eccetera indicazioni confuse giunte attraverso telefonate anonime a giornali e anche agli inquirenti le segnalazioni hanno una certa importanza vabbè e tra l'altro questa telefonata anonima che la sera le 11 di giorno vogliono magari oggi ormai un periodo di magria diciamo e questa telefonata anonima riporta viene ricollegata direttamente a calenzano all 81 2 quando due giovani raccontarono di aver incrociato non lontano dalla zona del delitto verso la mezzanotte e tutti il discorso che si sa del una macchina dello stesso tipo ecco tra l'altro c'è questo particolare quindi sappiamo nella telefonata di inizio agosto dell'84 telefonata anonima parla di una macchina che è dello stesso tipo e noi sappiamo che tipo è alfa colore aragosta o rosso scuro alla guida eccetera descrizione dei testimoni servì a costruire l'identikit quello famoso di vecchio pelato improvvisa conferenza stampa dello speciale gruppo operativo eccetera eccetera e si va avanti quindi c'è questa macchina adesso c'è questa segnalazione anonima su questa macchina tutti tutti presi da questa macchina 5 agosto ai cittadini che forniranno segnalazioni utili nelle indagini verrà garantito l'anonimato parte la linea telefonica che è il 0 5 5 4 7 6 2 6 2 computer e linea telefonica speciale per dare la caccia al maniaco infatti iniziano a ragionare non nella sam ci si piazza anche il anche un computer questo fantomatico commodore 64 chiunque abbia sospetti sul maniaco delle coppiette può telefonare garantito l'anonimato quindi cosa fanno non sanno veramente più dopo la pista sarda non sanno dove sbattere la testa la dico non si apre a tutto vaffanculo venite qualche chiunque pensa di sapere qualcosa interessante venga e ci faccia sapere tanto non vi si iede nome ognome nulla va bene tutto e qui inizia il casino no queste sono tutte tutti i giornali del tempo sto semplicemente leggendo in ordine tutti i giornali del tempo prendendo qualche frase che mi ricordo e quindi che succede il mi arrivano migliaia al giorno no e quindi tempo due giorni se ne pente vigna perché non ce la visce più un cazzo e che giustamente perché come fai senza nome e cognomi chiunque può prendere alex mi sta sulle balle io lo metto nei guai eccetera e è successo poi la collaborazione tra le forze dell'ordine ah e questa è carina questa non la sapevo cioè me l'avevano parlate recentemente di un collega della zona a vicchio il paese in cui è stata uccisa domenica scorsa l'ultima coppia di fidanzati si sono costituite squadre di giovani volontari che stanno dando la caccia all'assassino purché a nessuno venga in mente di far giustizia sommaria le autorità non disapprovano questo moltiplicarsi iniziative spontanee per stanare il maniaco anzi in mancanza della benché minima traccia lasciata sulla scena dei delitti polizie e carabinieri insomma dicono aiutateci quindi le ronde le temibili ronde ma contro il mostro si va quindi al 7 agosto firenze segnalata da un anonimo una lettera della targa e questa la spiego perché praticamente le targhe nel 1976 77 sono cambiate e poi si può cioè diseguro esperti migliori di me e sono cambiate e quindi c'era l'aggiunta dopo la provincia c'era l'aggiunta della 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 di una lei di una lettera prima dei numeri e chi ha visto un'auto e ha informato gli inquirenti ha aggiunto anche la presenza di una lettera quindi si va più sullo specifico quindi per esempio la l'auto dell'otti non può essere perché l'auto dell'otti non c'ha la lettera l'auto dell'otti è 47 50 non ricordo il numero comunque non ha la lettera non c'è non ha la lettera nemmeno la l'auto mitica rossa e nera di vigilanti comunque va bene si mette lì continua a cerca sta targa questa auto e riescono a trovare la targa quindi fanno una scrematura controlli in tutto tutto il mucello presso la questura di firenze messa a disposizione per eventuali comunicazioni questo numero telefonico sono aggiunte diverse segnalazioni ma ha sollevato molte critiche per il pericolo ovviamente scaturito da ricatti e linciaggi murali la boschetta metodi in interrotto pellegrinaggio della gente all'investigatore conoscono una lettera della targa di un'auto sospetta è stata vista girarsi nella zona dell'ultimo delitto indiscrezione circolava da qualche giorno è stata confermata dal procuratore della repubblica ha aggiunto carlo bellitto questo ha detto che le indagini sono ora indirizzate principalmente alla ricerca dell'auto del suo proprietario si dovranno vagliare migliaia di autovetture immatricolate in un certo periodo ecco perché torna e lo dicevo perché appunto c'è questo scatto questo cambio delle targhe quindi vanno a cercare io ipotizzo vanno a cercare appunto quelle immatricolate quando sono poi diventate effettive queste tipologie di targhe i tempi dell'immatricolazione sono in corso accertamenti presso tutte le aziende automobilistiche secondo le indiscrezioni trapelate uno o più testimoni avrebbe riferito di aver visto un'auto vettura nelle ore vicine a quelle del duplice dell'elitto nella zona di vicchio e che avrebbero indicato anche il probabile tipo e colore praticamente vanno sul vago mentre il giorno prima sono stati molto più specifici una lettera che precede il numero della taglia insomma stanno raccogliendo e vagliando i dati vabbè solita roba vediamo a Firenze indagini sui 14 delitti maniaco identikit affidato a tre esperti quindi abbiamo anche si torna sempre i soliti argomenti devono fare sta cosa ribadiscono che c'è il numero di telefono qui non mi sembra sia nient'altro sperano nell'aiuto del computer e Perugini ci insegna che sarà utilissimo questo lo dico io Firenze è accaduto il primo luglio questa è carina cioè probabilmente è una boiata però è carina perché mi sembra che recentemente è risaltata fuori questa coppia qualcuno mi sembra su internet si è fatto vivo dicendo ma non sapete che mi era successo sta cosa non sono ricordi pachi comunque aggrediti dal folle sull'auto blindata il primo luglio dell'84 il primo luglio il maniaco di Firenze ha cercato di uccidere nelle campagne tra Poggi, Bonsi e Tavarnelle un uomo e una donna che devono la loro salvezza all'auto blindata polizia e carabinieri stanno indagando sul fatto segnalato da una donna con una telefonata al quotidiano della nazione quindi si torna diciamo un po' all'anonimato che succede? lo dice chiaramente pensavo fosse rimasto un po' segreto la donna che ha detto di essere in Ubilis si sarebbe appartata in una zona deserta con un amico però sposato nell'auto blindata di quest'ultimo a un tratto hanno udito un rumore secco l'uomo istintivamente ha messo in moto la vettura e è ripartito solo in un secondo momento in un secondo tempo poi i due si sono accorti che sul vetro anteriore sinistro c'erano delle scalfiture che potrebbero essere state provocate da un proiettile si legge male stiamo compiendo delle verifiche su questo episodio ha detto il dirigente della squadra mobile Maurizio Cimmino ma non ha voluto precisare se i protagonisti di questa vicenda sono già stati individuati e contattati dall'investigatore comunque rimane lì questa cosa poi si va all'11 agosto secondo la procura l'ultimo duplice omicidio gli scagionerebbe i giudici libertà i due indiziati per i delitti del folle di Firenze qui c'è proprio la spaccatura completa perché la procura dice liberate il fornaio e l'amico e invece l'altra parte non vuole quindi vediamo se però c'è delle notizie più interessanti motivazioni ufficiali insomma vabbè questo omicidio ha indebolito gli elementi che portarono al loro arresto una pistola, un po' ossoli niente rimane lì non approfondiscono semplicemente c'è questa notizia poi si va al 12 agosto sindaci di Firenze e Scandicci chiedono tolleranza ai genitori aprite la casa ai vostri figli e il folle non potrà uccidere un successo l'iniziativa del numero telefonico speciale tra le molte chiamate qualcuna fornisce elementi utili il teologo vabbè chiamarci non si parli di mostro ma di un uomo molto malato quindi sempre la chiesa chiede confessa confessa confessati con noi però sono passate esattamente le settimane vediamo allora il sindaco di Firenze dando conti i figli vabbè questa è la parte diciamo per il sociale però è interessante non so se anticiparlo che vediamo non voglio rovinare poi la lettura i primi risultati dell'inchiesta sembrano che gli appelli hanno funzionato innanzitutto già anticipa quello che poi è la scoperta che volevo leggere alla fine che l'omicidio siamo riusciti a stabilire con una certa sicurezza l'ora del delitto circa le 21.45 mentre da alcuni giorni vengono controllati i proprietari di Alfa Romeo rosse vecchio tipo qualcuno ha sentito gli spari e questo ha permesso di stabilire definitivamente l'assassino non usa un silenziatore perché appunto non so se ve l'ho letto all'inizio ma i primi giorni proprio pensavano questo uso il silenziatore perché nessuno si è accorto di nulla poi invece avevano verificato che non c'era cioè la zona era praticamente deserta invece squadra speciale vabbè qui fanno un parallelismo con Jack lo squartatore andiamo avanti allora 15 agosto libertà negata ai due arrestati per il primo delitto del maniaco la procura era favorevole alla scarcerazione Rotella non vuole non ne vuole proprio sapere li vuole tenere in galera e inizia anche a inizia anche a inizia anche a tirare fuori un po' di boh non so cose tipo tira fuori c'è questa mappa di Giovanni Mele che praticamente dicono no no questo è certamente indica il punto in cui tiene nascosta la pistola oppure i feticci perché era tutta strana tutta misteriosa poi viene fuori viene accertato questo anche da loro cioè proprio controfirmato e lui siccome andava a funghi quello era proprio il punto in cui poi si fermava una roba simile comunque era legato ai funghi non c'entrava niente poi tra l'altro lo accusano perché trovano un liquido che a loro detta servirebbe per conservare i feticci scoprono che lo usa invece per i funghi e poi c'era un'altra cosa simpatica ah c'aveva la cendina sporca con delle macchie di sangue poi scoprono che non erano affatto macchie di sangue comunque vabbè loro cercano di tenerlo dentro e all'inizio ci riescono anche ci riescono a tenerlo dentro e poi vedremo perché il mostro non sono io vabbè allora 18 agosto Firenze eccolo da un automobilista la prima testimonianza in 16 anni di delitti ha udito gli spari del maniaco 5 colpi erano le 21 e 35 qui si va indietro i 10 minuti però conquistenza è sempre il solito cioè poi ora lo sappiamo che sono due testimoni diversi in punti diversi che testimoni nello stesso orario esatto e quindi va da sé che è successo davvero intorno alle 21 e 45 un uomo che per hobby fa il cacciatore e quindi ha una certa dimestichezza con gli spari è transitato in auto con la moglie lungo la via sagginalese a poche decine di metri dal luogo dove l'assassino ha ammazzato e straziato Pierontino e Claudio Stefanacci la sera del 29 luglio scorso ha raccontato alla polizia di aver sentito distintamente 5 colpi di arma da fuoco alle 21 e 35 questo nuovo elemento che stabilisce con precisione l'ora in cui il maniaco ha colpito mette però in crisi l'altra traccia che sino a ieri stavano seguendo gli inquirenti quella basata sulla segnalazione e torniamo al discorso iniziale di un alfa romeo rossa vista da diverse persone girare nella zona del duplice delitto verso le 22 e 20 23 22 e 30 23 quindi tutto quello di cui avevano parlato fino a quel momento la testimonianza l'alfa colore aragosta eccetera torniamo all 81 a lenzano in realtà poi viene fuori e la vedono transitare un'ora dopo un'ora dopo l'omicidio comunque la vedono però se davvero il maniaco si sposta su una vettura di questo tipo che cosa faceva un'ora dopo il delitto nella stessa zona se infatti ecco perché la traccia dell'alfa romeo rossa improvvisamente ha perso consistenza nuovi elementi per indirizzare le indagini potrebbero invece venire da una seconda perizia disposta dal sostituto procuratore Canessa su tutto ciò che è stato trovato eh sentili Canessa bravissimo non sono ironico però nell'84 bravissimo una seconda perizia richiesta da Canessa su tutto ciò che è stato trovato nell'auto dove sono stati uccisi il magistrato ha posto ai tre medici incaricati un centinaio di domande i tre esperti hanno chiesto 60 giorni di tempo intanto si allontana la possibilità che alle indagini sugli omicidi il maniaco possa collaborare l'FBI quindi qui prendiamo la notizia che l'FBI era in odore di collaborazione e poi se i magistrati lo ritengono opportuno chiederemo la collaborazione di questo ente a quanto pare non lo ritengono opportuno e ne parla addirittura il ministro degli interni Scalfaro ma la procura di Firenze ha fatto sapere che preferisce affidarsi agli investigatori fiorentini perché in loro ha massima fiducia e gli aiuti esterni non ce n'è bisogno quindi scartata l'FBI va beh è stata ulteriormente la polizia che si ha accortato vabbè Pierluigi Pigna uno dei magistrati più esperti della procura fiorentina vabbè andiamo avanti e siamo al 24 agosto diciamo sembra strano vabbè 24 agosto Giovanni Mele dal carcere si difende serviva per andare a funghi ve l'ho già anticipato ho fatto uno spoiler di quella mappa quel materiale vabbè anche una mappa misteriosa nelle indagini sul maniaco queste mappe misteriose comunque appassionato cercatore dei funghi per tagliare la base del fungo usava un coltello molto particolare insomma continuano a volerlo a cercare ovviamente c'è lo zio Pietro lo zio Piero e la solita roba insomma lui è colpevole secondo loro troppi silenzi 25 agosto troppi silenzi nell'inchiesta sul maniaco di Firenze il duplice omicidio del 68 primo dei sette commesse con la calibro 22 è stato messo da parte dai magistrati che indagano sui delitti del maniaco di Firenze quella dell'inquirente è una scelta di metodo investigativo suggerita anche dalle esperienze passate comunque il fatto che Giovanni Mele in carcere insieme al cognato Piero Mucciarini abbia detto i suoi avvocati commentando ah e tra l'altro poi iniziano a girare le frasi affascinanti che piacciono per le accuse maledetto Stefano ha fatto ammazzare altri due giovani avrebbe commentato dopo Vicchio quindi Giovanni Mele dice Stefano è un cavallo pazzo ammazzate lui tutti quanti Beretta 22 ma a canna corta è un modello da 8 colpi questo il 26 agosto Firenze scoperto dopo 16 anni il tipo d'arma usato dal folle attenzione nell'84 il 26 agosto scoprono qual è l'arma del mostro e oggi 15 gennaio 2019 invece le stesse persone dicono ma chissà che ha sparato ma secondo me è una high standard comunque allora il viaggio compiuto nei giorni scorsi a Gardone Valtrompia dove assiede la Beretta insomma raccolgono dati e viene fuori gli investigatori fiorentini i tecnici dell'industria di armi hanno sparato centinaia e centinaia di colpi vabbè le Beretta calibro serie 70 hanno identiche le parti meccaniche che determinano la percussione espulsione estrazione del proiettile ma ogni arma lascia sul boss tracce levemente diverse che permettono di stabilire quanto quando a sparare la stessa pistola anche la canna però lascia tracce sul proiettile e gli esami fatti a Gardone Valtrompia hanno dimostrato che l'arma del maniaco assassino a canna corta ancora però se ne ragiona ma secondo me a canna lunga questo ha permesso di restringere le possibilità solo ai modelli 71 e 72 mentre sono stati ovviamente scartati quelli a canna lunga e quelli che sono stati prodotti dopo il 1978 mi sembra sia il modello 71 che il 72 hanno un caricatore da otto colpi con la possibilità di mettere il nono in canna è possibile anche comprimere nove proiettili nel caricatore ma in questo caso il rischio di inceppamento dell'arma è molto alto e sarà successo a Pacciani quando poi ha dovuto scarrellare no in realtà qui manca l'informazione che a quanto dicono gli esperti attualmente in questi modelli si poteva mettere anche il caricatore con più colpi arrivando a 10 più uno già incamerato comunque essere riusciti finalmente a determinare con sicurezza scientifica il tipo di arma usata dall'assassino è un risultato tutt'altro che marginale di Beretta calibro 22 in Toscana ne sono registrate circa 14.000 boia un numero altissimo volendo fare dei controlli un numero che si riduce però drasticamente se scomposto per i vari modelli c'è negli inquirenti la sensazione che quella del maniaco assassino non sia però una pistola regolarmente denunciata vabbè appurare tutto quanto è possibile su proiettili piombo testa ramata i tecnici della ditta americana investigatori a e qui ecco questa è la cosa in realtà non so quant'è che sto blaterando a caso però questa è la cosa che mi interessava di più il senso di questa stupida inutile diretta è che perché intanto tutti i sindaci della provincia di firenze sono stati incaricati di fornire i dati sugli uomini tra i trenta e sessant'anni residenti da soli o con un solo familiare o con un convivente che non sia la moglie perché praticamente siamo al 26 agosto poi magari c'è un articolo migliore io non voglio andare a braccio sì 28 agosto si entra più nello specifico lo spiegano Firenze censiti gli uomini di mezza età che vivono soli raccolta dati non schedature per identificare il maniaco non abbiamo intenzione di fare nessuna schedatura di massa vogliamo soltanto avere a portata di mano dei dati che ci possano essere utili per le indagini così Pierluigi Vigna Francesco Flery e Paolo Canessa tre dei quattro sostituti procuratori che si occupano dell'inchiesta del maniaco di Firenze hanno spiegato l'iniziativa di chiedere ai comuni della provincia di Firenze i dati degli uomini dai 30 ai 60 anni che vivono soli o con un convivente che non sia la moglie mia sceme i dati non hanno valori per se stessi ma possono servire rapportati ad altri elementi che emergono nel corso delle indagini e soprattutto ci serve averli a portata di mano per ottenere tutte le notizie ad esempio su una persona che ci viene segnalata senza ricorrere ogni volta all'anagrafe del comune ci dicono i magistrati per essere chiari spiega Vigna conviene fare un esempio se io devo telefonare a qualcuno e non conosco il numero ho due alternative consultare l'elenco del telefono o chiedere il dato al servizio informazioni naturalmente avere l'elenco degli abbonati sulla scrivania è più comodo e mi permette di trovare il numero più in fretta i dati che abbiamo chiesto rappresentano per noi una comodità un mezzo che ci permette di accorciare i tempi proprio come l'elenco SIP qual è il problema? il problema non è di poco monto perché innanzitutto allora Vigna vuole i dati di cosa? lui ha aperto le linee telefoniche viene aperto le linee telefoniche 055 47 6262 telefona chiunque minacce cose ricatte alla gente insomma quanti avranno telefonato con informazioni davvero utili e sincere per il mostro? pochi probabilmente però comunque gli arriva tutta questa roba si trovano stratieni di lavoro e non sanno come venirne a capo quindi il passo successivo è cercare di scremare queste segnalazioni come le decidono di operare? semplicemente loro dicono ma noi ci interessano solo gli uomini quindi il mostro non è una donna ovviamente però c'è chi lo pensa comunque ovviamente non è una donna si tiene solo gli uomini si tengono solo dai 30 ai 60 anni non può avere né di meno né di più quindi un altro sottinsieme poi deve vivere o da solo oppure con una femmina che non sia però una moglie insomma un legame sentimentale deve essere o per dire poi ci sono gli esempi deve essere tipo una mamma malata vive con la mamma malata vive con la sorella boh non lo so disabile non lo so comunque se vive con qualcuno deve essere un elemento femminile che non è la moglie che non sia la moglie poi non è finita perché oltre a aver già scelto diciamo il tipo di soggetto quindi eliminando tutta una vastità incredibile di possibilità Firenze città queste sono parole di vigna Firenze città ad esempio è esclusa dicono facendo capire che la loro attenzione è puntata soprattutto sui centri dove sono avvenuti i duplici omicidi commessi eccetera un altro dato al quale gli inquirenti danno molta importanza riguarda i trasferimenti di certe persone io veramente Canessa nell'84 fantastico perché Canessa dice a noi interessa soprattutto la mappa dell'immigrazione da comune a comune sempre nell'ambito della provincia di Firenze quindi togliamo togliamo il centro di Firenze non c'entra nulla prendiamo questi paesi dove dove sono successi fattacci e incrociamo dei dati quindi chi magari dal Mugello si è spostato a Scandici o a Signa e viceversa è interessante però questa roba una cosa così poi vabbè ognuno ha le proprie idee però per me è abbastanza determinante per cercare di venirci a capo però come la fanno? la fanno loro? no la delegano al sindaco del paesino sfigato che si ritrova questo lavoro da fare quindi io vado a boh che ne so io faccio la io sono Vigna lo chiedo a a San Piero Assieve vabbè a San Piero Assieve chiedo guarda mi devi consegnare nome e cognomi e tutti i dati dove vivono cosa fanno di queste persone qui cioè chi conosce le realtà dei paesini della provincia sa benissimo o sono tutti parenti o sono amici o sono cresciuti insieme o hanno attività commercio tutto legato insieme si conoscono da una vita sono come fratelli cioè piccole realtà comunque molto legate e io sinceramente sono il sindaco mi ritrovo tra i dati a dover consegnare il migliore amico con cui sono cresciuto per tutta la vita e io so dentro di me lo so dico io su questo ci metto la mano sul fuoco ma figurati ma è impossibile che questo sia l'autore di queste schifezze di questi omicidi io dubito abbiano fatto un lavorino così sincero e onesto e quindi i dati partoriti da questa da quest'ordine secondo me sono assolutamente non inutili ma comunque molto scremati a loro volta scremati e anche perché poi questo si ritrova denunciato cioè no si ritrova un accertamento perché c'è qualcuno nella telefonata anonima ai call center sembra che accusi lui gli vanno a fare lo vanno a perquisire e questo fa scusa ma che cazzo fai ma che consegni ma che ti ho fatto di mare ma la nostra amicizia la nostra tutto quello che abbiamo passato insieme si frega niente comunque questa era e questa è la tecnica che hanno deciso di di mettere in atto per raggiungere l'eventuale mostro comunque poi 30 agosto siamo a fine manca poco Firenze nuovo sopralluogo tutti vicino al fiume delitti del maniaco in realtà non è vero infatti poi dentro tutti ma non tutti vabbè la vicinanza di un corso d'acqua è l'elemento che accomuna i luoghi dove sono stati uccisi l'hanno detto i sostituti procuratori hanno indagato apparentemente ha detto Flery qui si tratta di zone abbastanza diverse tra loro ma solo in due località a Baccaiano dove furono uccisi Mainardi e Migliorini e Giogoli dove toccò due giovani tedeschi l'assassino ha colpito in zone non isolate dove non c'erano molte opportunità di nascondersi in tutti gli altri casi dicono i magistrati si tratta dei luoghi del tutto fuori mano dove non si passa per caso e qui si finisce il lungo discorso di che cacchio è successo sta auto color aragosta che non è di la targa dei vigilanti e non è la targa dei lotti è stato identificato l'uomo che su una Giulietta rossa la sera il 29 luglio si trovava a Vicchio nei pressi della località dove sono stati uccisi Pierontini e Stefanacci si tratta di un pescatore cioè ecco il grande mistero che ha tenuto banco tutto agosto dell'84 è questo pescatore sfigato che aveva parcheggiato la vettura proprio per andare a pescare nella sieve l'uomo ha spiegato in modo esauriente ai magistrati i suoi spostamenti e i motivi che li hanno provocati quindi questo non solo viene visto transitare un'ora dopo l'omicidio e non contemporaneamente come pensavano all'inizio ai primi di agosto ma in più si fa vivere scusate io sarei un un pescatore che volete da me poi magari poi a sapere il nome invece torna affascinante la questione però e poi la parte finale è l'inizio di settembre a me non interessa quindi non ci sto a perdere tempo perché 31 agosto 84 il secondo ha ucciso per scagionare Giovanni Mele non s'arrendono la procura non ne può sapere ma loro non s'arrendono sono i sardi punto e basta il giudice di Firenze forse in mania ci sono due si comincia con la la pista del del prestito ora tocca a te poi tocca a me ma non c'è grandi grandi spunti non ci sono per alimenti la testimonianza di un amante di Giovanni Mele la quale avrebbe dichiarato di essere stata da lui portata in un macabro pellegrinaggio sui luoghi dove il maniaco assassino ucciso e persino a visitare la tomba della giovane Carmela Denuccio una ragazza uccisa e straziata a Scandicci insieme al fidanzato forci e le ex un casino ho sempre di mezzo qui a fa casino poi sul fatto delle altre donne che sono state vicino a costui aspetta eh Sciarretta mitico se sei d'accordo non punterei sul fatto di altre donne che sono state vicino a costui potrei al limite pensare che questo soggetto sia vissuto per un periodo per un periodo x di tempo con una mamma disabile oppure sia voglia però che non riesco oppure seriamente ammalata e che poi nel frattempo è morta e comunque in tal caso nei panni di questa mamma a sapere di aver avuto un figlio del genere e per di più sapendo perché difficilmente non lo avrebbe saputo che questo figlio girava commettendo quello che commetteva da mamma nei suoi panni ti giuro mi sarei succidato in anticipo madonna pentimento come pentimento per averlo messo al mondo è bello il libro il sospetto di Laura Grimaldi l'avevo già consigliato che appunto affronta il rapporto della mamma che piano piano scopre il figlio e capisce che è il mostro libro è carino l'aspetto psicologico insomma poi aspetta contrasto con la procura vabbè no comunque a me di Giovanni Miele mi dispiace ma non ce la faccio era a funghi ma che dai fai coraggio sono anche buoni primo settembre Firenze è stata affidata a tre super esperti una perizia traccerà il profilo del maniaco sempre FBI no fai schifo abbiamo quelli fiorentini allora Canessa dice partiremo da capo analizzando più i fatti che le persone vabbè senza commento svolgendo un lavoro che possiamo considerare parallelo a quello dell'ufficio dell'ufficio istruzione bisogna considerare che nel 68 per quello che viene considerato il primo duplice delitto l'inchiesta fu chiusa in tre giorni per la confessione di Stefano Miele fatti ed elementi anche di quell'epoca saranno considerati e vagliati no il Canessa all'84 un approccio scientifico delle indagini che finora non era stato possibile mai seguito in Italia prima Canessa ha anche sottolineato l'aiuto sostanziale che i magistrati continuano a ricevere dagli organi centrali di polizia dei ministeri interessati è un lavoro ha detto che non non potrà non dare i suoi frutti e questo non è ottimismo si legge malissimo ragazzi comunque tre docenti siamo al 4 settembre poi si finisce tre docenti ricostruiranno la personalità del folle di Firenze useranno le tecniche dell'FBI per il ritratto del manievo quindi l'FBI si propone no non vi vogliamo ci abbiamo i nostri fiorentini però aspetta che impariamo intanto come fate voi e cerchiamo di fare uguale però c'è De Fazio De Fazio bello De Fazio quindi c'è De Fazio Luberto e Galliani medicina legale dell'Università di Modena tre professori esperti di medicina legale criminale delitti dopo una prima presa di visione del materiale i tre decideranno se chiamare a lavorare con loro anche un sessuologo in un primo momento avevamo preparato tutta una serie di dettagli di quesiti a cui i tre professori avrebbero dovuto tentare di rispondere poi abbiamo preferito farne uno generale in seguito passeremo ad altri in sostanza abbiamo chiesto di sapere se ci si trova di fronte a un solo aggressore di coppie e di interpretare il significato delle sue azioni criminose speriamo di ottenere non un identikit ma indicazioni sulla personalità sotto il profilo psicologico psichiatrico e criminologico eccetera 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 sarà quale può essere la malattia dell'assassino non capisco se sono connesso oppure no ma finisco tanto se non è al fine e se ha commesso altri reati se può commettere altri reati se agisce sotto l'effetto di sostanze stupefacenti cosa se ne fa dei fetici in queste in quasi tutte le occasioni è orribilmente mutilato il popolo della ragazza se è una persona che vive da sola se c'è una spiegazione per gli intervalli di tempo tra un assassino e l'altro sei anni tra il primo e il secondo sette tra il secondo e il terzo se ci può essere una precisa causa che scatena la foglia omicida molte domande la speranza alimentata dai successi ottenuti nel corso degli anni dalla FBI specializzata nel profiling la speranza ultima e poi è finito Stefano Mele cambia ancora versione c'è un quarto uomo al duplice delitto del 68 è lui il folle di Firenze quindi il 6 settembre 84 e Stefano Mele ci dice perché qui devono restare in galera questi due non c'è verso c'erano quattro persone Stefano Giovanni Piero Mucciarini e un uomo che li aveva accompagnati in auto fino a quella radura isolata Mele ha parlato del quarto uomo del quale non si sa se abbia fatto anche il nome nel corso dell'ultimo colloquio ha avuto con il giudice istruttore Mario Rotella Mele avrebbe raccontato di aver raggiunto il luogo dove la moglie si era appartata in auto con lo bianco insieme ai fratelli Giovanni al cognato Nucciarini e a una quarta persona è stato questo autista a portare via la beretta calibro 22 che ha ucciso altre 12 persone alla domanda per ora i magistrati non vogliono rispondere Mele ha accusato un quarto uomo niente questa è diciamo la fine di tutta questa storia di tutta questa estate dell'84 quindi abbiamo da una parte le testimonianze l'identikit di cui quello noto insomma e dall'altra abbiamo appunto queste immediate perquisizioni del Mugello questo screening fatto fare però su delega quindi fatte la pesca che cazzo ne hanno messo se gli hanno messo davvero i nomi eccetera abbiamo le auto rosse in realtà non c'è solo l'alfa rossa delle 22 e 30 lì alla boschetta perché c'è anche poi viene fuori negli anni l'R4 rossa e poi c'è anche l'auto che però non era proprio rossa ma di notte sembrava più sui bordeaux amaranto di cui ci parla Poggiali quando riaccompagna la Pia in un paio d'occasioni viene pedinato vengono seguiti insomma da questa da quest'auto particolare lui fa degli esempi di modello ma che non erano quelli ma quindi sono addirittura tre non si sa se trovo qualcosa altra interessante si mette io 18 e 53 posso finalmente andare si 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 ah ultimi commenti aspetta mi hanno attribuito anche tanti mestieri perfino il pittore e il rappresentante tutti tranno quello che probabilmente era giusto i migliori sono stati i periti psicologi dopo i primi amicidi che azzeccarono l'escalation e le pause senza FBI eh carino io questo non la non la so cioè boh Mucciarini era quello che arrestarono a gennaio 84 perché a detta loro girava con un bisturi nel portafoglio uno che girò il bisturi ma Mucciarini andava in biciletta da curaccio boh e lui magari l'ha presi per il culo anche facendo questo dice questo va in biciletta guardando ti guarda che ti vado a combinare e ti faccio tutti quei chilometri fino all'altra parte delle fino all'altra parte di Firenze vabbè comunque non so quanto quanto si è chiacchierato e niente provo a tenerla a tenerla online non so come si fa a volte ci riesco a volte no ciao 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 ciao